Siamo qui al ristorante al Pappagallo di Bologna, a due passi dalle torri, con Corrado Parisi, il nuovo chef che da marzo ha portato la sua manualità, la sua gastronomia qui all'interno di questa bellissima location. Prego. Buongiorno a tutti, come ho detto prima sono Corrado Parisi, sono arrivato a marzo, primo menù è uscito il 25 aprile, Pappagallo è il ristorante d'eccellenza per la cultura gastronomica bolognese a Bologna, quindi dite ma un siciliano, un siciliano che fa cucina bolognese non solo, abbiamo un menù visto da tradizione e di evoluzione oggi, abbiamo presentato il nuovo menù estivo che è il menù che abbraccia più l'ecosostenibilità, l'ecosostenibilità per noi vuol dire non spreco, stagionalità, cotture diverse, non lunghe cotture perché è importante anche quanto si consuma, quanto CO2, da dove viene il prodotto, quanto si inquina per creare un piatto, questo è importante, nel nuovo menù abbiamo ottenuto questo e stiamo cercando di andare su una direzione anche molto più vegetale, che una volta era così, una volta si mangiava proprio molto più vegetali, quindi stiamo facendo delle ricerche su una cucina tradizionale e al passo coi tempi, ma che sia anche salutare perché oggi bisogna anche mangiare bene, bello, buono, ma deve essere soprattutto salutare. Grazie Chef. Grazie a voi.